Musica Palermo scoperta una piantagione di marijuana, il coltivatore la teneva in un box sfruttando abusivamente la corrente elettrica. Ha arrestato a Palermo un rapinatore seriale, a tradirlo il piercing sul sopracciglio. Centinaia di video e foto hard di liceali palermitani su WhatsApp, tra di loro una quattordicene in un rapporto sessuale. Sfiduciato il sindaco di Bagheria, il comune da stamattina non ha un concreto amministratore. Attivati i lavori per l'apertura del porto turistico di Balestrate, la fruizione sarà comunque parziale. Buonasera e ben ritrovati con il nostro telegiornale in apertura subito. Come avete sentito i video hard pubblicati e messi su WhatsApp da un gruppo di liceali palermitani e fra di loro anche una quattordicenne in atteggiamenti inequivocabilmente sessuali. A voi il servizio. Il giorno su WhatsApp girano diversi video hard con ragazzini palermitani protagonisti. Tre ragazzi ed una ragazzina di circa 14 anni. Lei è completamente nuda, inginocchiata davanti ad un suo coetaneo che ha i pantaloni abbassati. Una terza persona riprende. La quarta guarda soltanto. Preliminari spinti e poi il rapporto sessuale completo. È la scena che compare in un filmino girato da alcuni studenti di un liceo palermitano. Nelle immagini si vedono bene il viso della ragazzina e del suo coetaneo che hanno l'amplesso. Un filmato sceno girato senza un minimo di pudore con una voce fuoricampo. Quella del quarto ragazzo che commenta alcune situazioni che si stanno sviluppando al momento. Un video che ha fatto rabbrividire gli adulti che lo hanno visto. Giochi erotici da adulti spinti conclusi con un rapporto sessuale completo. Dal filmato appare evidente che i ragazzini sono consapevoli di essere inquadrati e non nascondono il viso. In città i video girano alla velocità della luce soprattutto tra gli studenti delle scuole superiori. Alcuni dei filmati sono già stati acquisiti e gli investigatori della polizia stanno lavorando velocemente per individuare da dove sono partiti i video che ormai girano su centinaia di cellulari e tablet di adolescenti della città. La polizia postale sta cercando di fermare la diffusione dei video e individuare i responsabili. E naturalmente ha aperto un'indagine. E sempre a Palermo la polizia ha scoperto una piantagione di marijuana all'interno di un box di via Rosso San Secondo. E la scoperta è stata fatta mentre erano intenti a verificare un allaccio abusivo alla corrente elettrica con la società Enel. Ad essere state trovate sono 15 piante di marijuana, tra l'altro ben coltivate. La polizia di Palermo, con l'ausilio del personale della società di fornitura elettrica Enel, ha scoperto una piantagione di marijuana all'interno di un box in via Rosso San Secondo. Gli agenti, nel corso di un'indagine volta a verificare un allaccio abusivo, una volta giunti nel luogo hanno notato un'intensa luce proveniente da due stanze ubicate in fondo all'immobile e contenente 15 piante di marijuana ben coltivate. E appara subito chiaro che all'interno del garage il reato di furto di energia elettrica si sommava a quello ben più grave di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le piante e tutti gli altri mezzi utilizzati per la commissione di reati specifici sono stati posti sotto sequestro. Il proprietario del box, un uomo di 50 anni, è stato denunciato per furto aggravato, produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La polizia di Palermo ha arrestato Francesco Mirabile, un uomo 34enne, pregiudicato e rapinatore seriale che da tempo si intrufolava all'interno di noti negozi per rubare l'incasso. A smascherarlo però è stato il piercing che teneva nel suo sopracciglio. La polizia di Palermo ha arrestato Francesco Mirabile, 34enne, pregiudicato palermitano per aver rapinato più esercizi commerciali, uno dei quali preso di mira più volte. L'uomo, infatti, si è introdotto ripetutamente all'interno del punto vendita Bottega Verde di Corso Finocchiaro Aprile, in cui, in più occasioni, tra novembre e dicembre dello scorso anno, armato di coltello e sicuro di non essere riconosciuto, ha compiuto le sue rapine portando via un incasso complessivo di 700 euro. A gennaio, con l'aiuto di un complice ancora da identificare, ha scelto come suo obiettivo il supermercato Fortè di Via Castelluccio, dove con lo stesso modus operandi ha portato via l'incasso di 600 euro. Il 34enne, però, con l'aria di chi si sente molto sicuro di sé, non ha avuto né l'accortezza di indossare abiti diversi nel corso delle rapine né quella di coprire bene il suo volto, lasciando intravedere il piercing sul sopracciglio, segno inequivocabile di riconoscimento. Determinanti anche le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che hanno consentito agli investigatori di eliminare ogni dubbio sul rapinatore seriale. Gli episodi di microcriminalità, sempre più frequenti sul nostro territorio, costituiscono uno degli obiettivi cardine della pulizia di Stato, impegnata da sempre sia nella tutela del cittadino, nell'ottica di una maggiore sicurezza sociale, sia in un'azione di contrasto del fenomeno criminale, allo scopo di ridurre il numero dei reati. Proseguono le indagini per risalire al complice. E rimaniamo a Palermo, dove la pulizia ha affermato Fabio Pispiccia, ex PIP, pagato con un generoso sussidio da parte della regione. L'uomo è stato infatti trovato a bordo di una Fiat 1 con due pistole pronte all'uso, passamontagna e guanti. Attualmente le forze dell'ordine stanno chiarendo e verificando quelle che erano le intenzioni dello stesso Pispiccia, che è uscito definitivamente dalla lista del bacino emergenza di Palermo. La pulizia di Palermo ha affermato Fabio Pispiccia a bordo di una Fiat 1 con due pistole pronte all'uso, passamontagna e guanti. L'uomo, pagato da anni dalla regione con un sussidio di 832 euro al mese perché inserito nel bacino degli ex PIP, si trovava in compagna di un complice al momento del fermo. Gli investigatori attualmente stanno cercando di chiarire quali fossero le reali intenzioni dell'uomo. Oltre a Fabio Pispiccia, nella lista dei 25 precari del bacino emergenza Palermo, espulsi pochi giorni fa a seguito di controlli da parte della regione, ci sono cognomi pesanti di noti boss di Cosa Nostra. L'elenco in mano agli investigatori, il timore, è che la regione, in assenza di controlli mai avvenuti in passato, abbia dato soldi pubblici a persone legate alla mafia e che hanno commesso diversi reati. Come ha dichiarato Crocetta, questa vicenda fa capire su cosa sono state messe le mani di chi amministra e governa e sul lavoro che tempestivamente è stato avviato per riparare gli eventuali danni. Tutto questo punterà a rimediare una situazione inaudita e spaventosa. La polizia di Oreto Stazioni ha posto ai domiciliari Gaetano Camarda, trentenne, per aver rubato un po' di tempo fa un cellulare ad una studentessa che grazie alla sua ricostruzione perfetta dei tratti somatici dell'uomo ha permesso alle forze dell'ordine di incastrarlo. La polizia di Oreto Stazioni ha posto ai domiciliari Gaetano Camarda, trentenne, pregiudicato per furto con strappo in concorso nei confronti di una diciassettenne. Lo scippo è stato compiuto lo scorso 9 gennaio ed ha permesso all'uomo di rubare il cellulare della ragazza che evidentemente era da tempo tenuta sott'occhio per il suo smartphone di ultima generazione. La ragazza, a distanza di pochi minuti dal furto, ha riferito quanto accaduto in commissariato, riuscendo a ricomporre minuziosamente i tratti somatici del suo aggressore. Gli agenti, frugando tra le piaghe della malavita cittadina, sono risaliti proprio a Camarda, residente nel quartiere della Calza. L'uomo aveva già precedenti simili, segno inequivocabile, per trarlo in arresto. In considerazione delle crescenti proporzioni del fenomeno criminale, la questura di Palermo ha ritenuto doveroso incrementare le misure di intervento e investigative atta a prevenire simili episodi e danni di giovani e ragazze prive di una reale difesa. Ad operare, quindi, saranno poliziotti ben radicati nei quartieri più soggetti ai furti. E come ricorderete, ieri era prevista la sfiducia del sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo. Ebbene, oggi il Comune si trova senza un concreto amministratore. Dopo una lunga seduta, ieri sera è passata in Consiglio Comunale la mozione di sfiducia per Vincenzo Lomeo, quale sindaco di Bagheria. Il testo ha ottenuto 20 voti a favore, 6 contrari, 4 consiglieri assenti. Adesso si inserirà il commissario straordinario che condurrà il Comune nell'emore delle nuove elezioni che potrebbero svolgersi già nel prossimo mese di maggio. Molte le accuse rivolte all'Omeo dai presentatori del documento di sfiducia, secondo i consiglieri, il primo cittadino non ha raggiunto gli obiettivi del suo programma elettorale, ha rallentato il rilancio socio-economico di Bagheria, addossando spesso le responsabilità ad altri, ha aumentato il livello di conflittualità con il Consiglio Comunale e con i cittadini. Ha gestito il personale in modo poco chiaro e trasparente, facendo ruotare i dirigenti e funzionari, spesso senza reali motivi, ma soprattutto sulla sfiducia ha pesato lo scandalo cimitero. Non a caso la mozione è stata presentata dopo i fatti connessi alla mala gestione del cimitero comunale, con il rinvenimento delle barre bruciate e le voci di possibili interessi criminali sulla gestione dell'aria. L'esperienza di Vincenzo Lomeo, sindaco di Bagheria, si conclude nel peggiore dei modi dopo tre anni dal suo inizio. A giugno Bagheria dovrebbe avere un sindaco nuovo. Probabili disagi potrebbero verificarsi nei prossimi giorni a causa del blocco dei tir che è previsto per il prossimo lunedì. Le sigle sindacali di categoria territoriali, Aias, FAI Sicilia, Astotrasport, Aitrasse e Assiotratte, hanno confermato in maniera univoca il fermo dei servizi di autotrasporto in Sicilia, dunque dalla mezzanotte del 24 marzo alla mezzanotte del 28. Lo ha reso noto la Federazione Autotrasportatori Italiani, la FAI, spiegando che la mancata erogazione delle risorse relative all'eco bonus 2010-2011 impone un'azione di protesta ferma e decisa. Le associazioni chiedono al Premier Matteo Renzi e al Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi l'immediata erogazione delle risorse riferite al contributo per le autostrade del mare oltre alla riapertura del tavolo tecnico Stato Regione Sicilia. La protesta annunciata durante la settimana sembrava potesse fermarsi grazie ad una convocazione per martedì da parte del Ministero dei Trasporti, ma i manifestanti hanno annunciato che invece la protesta comincerà. Quindi stop e trasporti su gomme in tutta Italia e soprattutto da e per la Sicilia, un blocco che non si vedeva ormai da tempo. I disagi sembrano assicurati. Stop all'arrivo di carburanti e dal ricambio di genere alimentari nei supermercati. Il mancato impegno personale del Ministro Lupi, così come la genericità dell'invito, fanno intendere un tentativo di prendere tempo solo per evitare l'effettivo avvio delle proteste. La sola condizione per procedere alla revoca del fermo è che vengano confermate immediatamente l'erogazione delle ecobonus oltre alla riapertura del tavolo tecnico Stato Regione Siciliana. Si va verso l'apertura del porto turistico di Balestrate. La svolta è arrivata ieri sera nel corso di una conferenza di servizio convocata dall'assessorato regionale, territorio e ambiente. L'apertura rimarrà comunque parziale. Svolta per l'apertura del porto di Balestrate, ieri nel corso di una conferenza di servizio convocata all'assessorato regionale, territorio e ambiente, è arrivato il nulla osta per l'utilizzo dell'importante infrastruttura, seppur parziale. Venerdì prossimo ci sarà la firma della convocazione tra la società Marina SRL di Balestrate e la Regione, annuncia il sindaco Totò Milazzo. Il via libero ormai rappresenta soltanto una formalità. La società dovrà a questo punto versare alla Regione la somma degli oneri concessori, pari a circa 23 mila euro e dopodiché potrà mettere in calce la sua firma la prossima settimana. Ciò significa che già per l'imminente stagione estiva l'area portuale sarà utilizzabile. Con tutte le peripezie che in questi anni si sono succedute, precise il primo cittadino, non voglio affatto sbilanciarmi. Sarò soddisfatto soltanto quando vedrò quelle firme sul lato di concessione. Diciamo che ho un grande ottimismo perché nel corso della conferenza di servizio si è delineata la certezza che tutto è pronto per partire. A partecipare alla conferenza di servizio, oltre che i tecnici dell'assessorato e il primo cittadino, anche l'amministratore unico della Maria di Balestrate, Gianni Moscherini. Il presidente del Consiglio Gino d'Anna e il vice sindaco Toto Ferrara. Anche in conferenza di servizio è stato comunque precisato che la fruizione del porto sarà solo parziale. Saranno aperti soltanto tre pontili per un totale di circa 300 posti in barca sui 500 disponibili. Il resto rimarrà ancora chiuso. Resterà interdetta l'aria oggetto di un'indagine della Procura di Palermo in cui venne scoperto l'utilizzo di cemento depotenziato da una ditta in odor di mafia. Si tratta del prolungamento del molo di proflutto che non si darà in concessione sino a quando non sarà concluso l'iter delle indagini. A rimanere chiusa anche un'altra parte della struttura che è stata letteralmente vandalizzata. Successivamente alla riapertura estiva, precisa il sindaco, si parlerà dei lavori da porre in essere per aprire anche gli altri pontili. C'è già una perizia in tal senso approvata dall'Ispettorato Tecnico Regionale che ammonterebbe a circa 700 mila euro. L'infrastruttura, costata 30 milioni di euro è completata dal 2009 ma è rimasta congelata prima per i ricorsi al TAR del Comune per l'affidamento della gestione dell'aria poi per l'indagine della Procura ed infine per i problemi legati all'insabbiamento ed anche ai tanti atti vandalici di cui ancora oggi il porto rimane sfregiato. E la crisi torna a colpire ad essere stato licenziato il personale impiegato nella ristorazione e nei bar della società Autogrill presso l'aeroporto Falcone e Borsellino. La stessa società ha affermato una perdita di 375 mila euro solo nell'ultimo anno. La società Autogrill ritenendo insostenibile il persistente calo dei fatturati registrato dal 2012 ad oggi ha annunciato il licenziamento collettivo per la totalità del personale impiegato al ristorante, alle barre centrale e al Wim Bar siti rispettivamente al terzo livello e al secondo livello dell'area Landside dell'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. Dal 31 maggio 23 dipendenti resteranno senza lavoro. In una nota inviata alle parti sociali la società Autogrill ha fornito il conto economico della società dove si evidenzia la perdita di ricavi quasi 154 mila euro nel 2012 e ben 375 mila euro nel 2013. L'azienda ha comunicato che a seguito della cessazione delle attività non ritiene possibile adottare misure alternative ai licenziamenti fermo restando l'intenzione di aprire un luogo locale sempre all'interno dell'aeroporto che potrà riassorbire parte del personale ritenuto in eccedenza. Un'altra struttura in forte degrado a Palermo adesso è la volta di Villa Pantelleria in Viale Strasburgo posta sotto sequestro proprio perché non era sicura a chi si avvicinava appunto la stessa costruzione. La storicità di Palermo continua ad essere messa a rischio dalla negligenza e non curanza di chi dovrebbe tutelarne la bellezza. Dopo le mura delle cattive un altro pezzo di storia della città è stato sequestrato. Il nucleo tutela patrimonio artistico della Polizia Municipale ha infatti apposto i sigilli a Villa Pantelleria in Viale Strasburgo. Il decreto emesso dal GIP e Torina Contino su richiesta del procuratore Giuseppe Fici è scattato per il grave stato di abbandono in cui persiste la storica residenza settecentesca della Pina De Colli e per il conseguente pericolo per la pubblica incolumità. In particolare il balcone posto sopra l'ingresso principale dell'edificio presenta numerosi dissesti che minacciano di crollare. I soffitti abbelliti un tempo con affresche e dipinti mostrano un degrado imbarazzante a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto. Sul lato destro del complesso monumentale anche la Villa in onore del principe di Pantelleria e da lui eretta nel 1734 presenta numerosi locali inaccessibili al pubblico trovati in condizioni precarie. La città attende adesso reali e concrete misure di intervento. Saranno presto smaltite a Palermo 54.000 pratiche arretrate di condono edilizio. è un'impresa ardua ma la sfida più importante da parte della commissione urbanistica è quella di inserire un software che possa alleggerire tutti gli archivi e cartaci che finora hanno appesantito i lavori della stessa commissione. Saranno smaltite a Palermo 54.000 pratiche arretrate di condono edilizio e questa è la tanto attesa iniziativa messa a punto dalla commissione urbanistica di Palazzo delle Aquile per mettere fine ad una tortuosa odissea. Un'impresa non facile è questa se si considera che parliamo di tre condoni diversi 1985, 1994 e 2003 per i quali solo a Palermo sono state presentate 60.000 domande 35.000 per il primo 15.000 per il secondo e 10.000 per il terzo Il problema è quante ne sono state esaminate fino a questo momento visti i tempi biblici del comune appena 6.000 Di questo passo si rischia di non uscirne più La commissione ha così deciso di accelerare il processo verrà infatti predisposta una nuova direttiva secondo cui chi chiede il condono dovrà richiedere anche l'agibilità o l'abitabilità che l'amministrazione dovrà rilasciare entro 60 giorni Ma la vera svolta dovrebbe arrivare fra tre mesi quando sarà messo a punto un nuovo software della SISPI che consentirà la scansione di 40.000 pratiche accantonando definitivamente la carta e gli archivi Oltre alle 33 postazioni attivate se ne aggiungeranno altre 24 complete Giulio Tantillo di Forza Italia ha affermato soddisfatto che la commissione urbanistica ha affrontato per la prima volta il problema del condono con tutti i vertici degli uffici presenti si aspettano adesso due passaggi fondamentali il confronto con gli ordini degli architetti ingegneri e geometri e la direttiva che il capo area porterà avanti per snellire le procedure l'impegno sarà quello di monitorare il tema del condono e di definire un quadro di regole e modalità diverse per poter eliminare pratiche che non hanno più motivo di esistere restituendo maggiore fluidità agli uffici la perizia giurata va verificata in modalità random e qualora non risultasse conforme si dovrà procedere per via legale ma come aggiunto il dirigente del condono Giovanni Carlo Galvano serve anche e soprattutto la buona volontà da parte di tutti l'associazione Biglia Verde ha organizzato un concorso letterario intitolato Adagnese Borsellino è dedicato Adagnese Borsellino moglie del compianto giudice ucciso dalla mafia l'ultimo concorso letterario organizzato dall'associazione La Biglia Verde Francesco Billesci ci ha spiegato perché la dedica ad Agnese e quali sono le finalità del concorso abbiamo deciso quindi di dedicarlo proprio ad Agnese abbiamo contattato la famiglia che ci hanno dato subito la loro disponibilità il patrocino ci hanno concesso il patrocino quindi poi abbiamo diviso il concorso ci sono diverse sezioni c'è una una sezione dedicata nello specifico alla legalità sì allora il concorso si compone di quattro sezioni la sezione A poesia in lingua italiana e a tema libero la sezione B poesia sempre in lingua italiana a tema legalità poi c'è la sezione C poesia in lingua in uno dei dialetti d'Italia a tema libero e la sezione D sempre poesia in uno dei dialetti d'Italia con il tema della legalità volevo dire che questo premio è patrocinato anche dal comune di Partenico dal comune di Borgetto e da ben dieci associazioni che vorrei sinceramente leggere per ringraziarli quindi è patrocinato dall'associazione Cittadini contro le mafie di cui il responsabile è Francesca Currieri l'associazione Le Torri l'associazione Giuseppe Pirrone di Borgetto l'osservatorio sviluppo e legalità Giuseppe La Franca l'associazione Talenti Vesuviani di San Giorgio a Cremano l'associazione Mille e una nota di Cristina Milone e Dario Veca l'associazione Libero Sfogo e l'associazione Mondo a Colore tutte queste associazioni quindi parteciperanno a questo grande evento infatti il motto è Tutti insieme per Agnese Per iscriversi c'è tempo fino a quando? Allora il concorso scadrà il 9 giugno il bando è interamente scaricabile dal sito www.concorsiletterari.it e fra qualche settimana si potrà scaricare anche dal sito del comune di Partenico e del comune di Borgetto e poi c'è anche una pagina Facebook dell'associazione La Biglia Verde anche lì si può scaricare Il telegiornale termina qui io vi ringrazio per la vostra attenzione vi ricordo il nostro quotidiano appuntamento alle 14 con l'anteprima del TG alle 14.15 in linea diretta grazie ancora e arrivederci a l'anteprima del TG